Nome. Peter Nierth. Numero vittime. Oltre 500. Modus operandi. Aggrediva e uccideva aiutandosi con delle armi da taglio e prediligendo quando possibile donne incinte. Si tratta molto probabilmente del più prolifico assassino seriale tedesco mai esistito. Tra il 1575 e il 1581 uccise oltre 500 persone, tra le quali numerose donne incinte. Nulla si sa della sua vita fino al 1580, quando si trasferì in Franconia, una regione tedesca che comprendeva alcune zone a nord della moderna Bavaria. Una volta stabilitosi in quella zona uccise sua moglie, al tempo in stato molto avanzato di gravidanza, e ne profanò il corpo con modalità raccapriccianti, estrasse il feto, di cui era il padre, dal ventre della donna, incise in profondità il corpo dell'esserino morto e ne strappò il cuore, cibandosene. L'esperienza antropofaga gli piacque molto, la sua carriera da cannibale era appena cominciata. Sua moglie non era la prima donna incinta che uccideva e sventrava per portarne alla luce il figlio da dilaniare. Aveva già ucciso in passato, spostandosi continuamente alla ricerca di nuove vittime. Nierge, oltre alle pulsioni malate da serial killer, arrivò a perpetrare tali gesta mosso anche da credenze e convenzioni acquisite da rituali di magia nera, che praticava da tempo. Nella zona attorno al fiume Reno uccise circa 223 persone, tra cui nove donne incinte. Poi si spostò verso sud e in seguito continuò a uccidere nell'area del Danubio. Nel suo viaggio di morte giunse anche in Austria, dove uccise cinque donne incinte, e attorno alla zona di Praga e nella Bohemia, dove uccise 140 persone, tra cui altre otto donne incinte. Tornò poi in Germania, a Ratisbona, col desiderio di viaggiare fino a Norimberga. Sulla strada si fermò nella piccola cittadina di Neumarkt a pochi chilometri da Norimberga per passarvi solo qualche giorno. A Neumarkt affittò una stanza in una locanda e passò due giorni a guardarsi attorno alla ricerca di prede da uccidere. Ormai i suoi demoni interiori erano inappagabili, letteralmente chiunque incrociasse il suo cammino rischiava di poter diventare la sua prossima vittima. Decise poi di dedicarsi all'igiene personale e di recarsi ai bagni pubblici per lavarsi, lasciando in custodia al proprietario della taverna tutti i suoi averi, contenuti in una grande sacca. Ai bagni pubblici la gente non faceva che parlare degli omicidi che stavano sconvolgendo la zona nelle ultime settimane. Nietzsche, che si era effettivamente dato molto da fare recentemente, restò impassibile e in silenzio, lavandosi in tranquillità, come se niente fosse. Ma non passò inosservato. Soprattutto non passarono inosservate le molte cicatrici che aveva sul corpo, forse quanto rimasto di un'infanzia terribile, o l'eredità lasciatagli da qualche sua vittima che era riuscita a difendersi, e le due dita storte e accartocciate di una mano. Uno dei presenti al bagno pubblico asseri di conoscere l'aspetto dell'assassino. Così, quando il serial killer lasciò il bagno, due intraprendenti e curiosi uomini lo seguirono fino alla locanda. Lì, a forza, si fecero mostrare dal proprietario il contenuto della sacca del misterioso straniero, scoprirono così, tra oggetti e vestiti più o meno normali, anche diverse cianfrusaglie da rituali di magia. Della cosa fu avvisato il sovrintendente della città, che fece arrestare Nirc inviando otto soldati, scordandolo poi alla sua presenza legato a un carro di letamme. Gli uomini del sovrintendente cominciarono subito a interrogarlo, non lesinando in violenza per farlo confessare. A partire dal 16 settembre 1581 fu torturato per due giorni, gli vennero incise delle ferite ricoperte poi da olio bollente, il suo corpo fu ustionato in varie parti, gli vennero fratturate le gambe e le braccia. Nirc confessò quindi tutti i suoi crimini, cominciando dalle uccisioni commesse a partire da sei anni prima, nel 1575, venne infine ritenuto colpevole di 520 omicidi e condannato a morte. Il 18 settembre 1581 venne ucciso e il suo cadavere fatto a pezzi. I suoi resti furono appesi a pali sulla strada per la città. Grazie. Grazie.